Il coronamento di una passata stagione ai vertici e una dichiarazione d'intento per quell'apenile. Sale in cattedra il trofeo, la supercoppa che si sono meritati, un primo trionfo che fa ben sperare per il futuro. Scopriremo presto se saranno in grado di confermare questo carattere vincente, ma adesso non conta pensare a nuovi obiettivi. E' ora di festeggiare amici! Grazie a tutti!